Dice uno a uno Segna? Segna Conti E mi è venuto così in testo In questo momento Non muoverla, non muoverla Mettete smacco Daniele, avevi predetto il pareggio Serena, ti fa impressione il polpo? Adesso meno Adesso meno Allora, concentriamoci Serena, cominciamo vicino al polpo Magari una cosa positiva Vicino alla testa vicino a Serena Vediamo un po', ecco Questa è un'immagine da ricordarmi Entra nel blog di Serena La mia testa Il mio cervello Va avanti alla sua fiducia Cagliari 2, Fiorentina 0 Segna Segna Nainggolan E acqua fresca Applausi Applausi Il polpo Daniel fa la schedina su Radiolina C'è anche sul sito Radiolina.it Quindi ha preso piede Ha preso quota Io saluto Manolo No, state lì su Perché sto per presentare un atleta Lui è un campione di wrestling Per piacere questo Il tuo figlio lo guarda? Sei anni No Mi figlio no Mi preferisco di no Mi figlio guarda i film Di scopattina Figurare Lui è il grande Cozzina Piano, piano, piano 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 È cattivo, è cattivo Piano, piano Che ha te può uscire a un bambino? Era addormentato E l'hai svegliata Hai scelto il sonno Cosa c'è? Dai Questo è il lottatore Piano Piano Hai fogato Ferma un altro Che c'è un pelo super Ehi Ismi Dei muscoli Dei muscoli Dei piscian Dei trip S'ammazza S'ammazza Sindicali A tutti Dei trip Dei ment Trip come è? Eh, ma state facendo da me Avvicinate La Dei simingi Dei simingi La tilata La 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 tilata Parliamo della lonna Ah, you can't see me Io non ti posso vedere I can't see you Anche io non posso vedere I scroge you Come ti declappi De Pasqua Ti scroge you? Come ti scroge you Come ti scroge you De Pasqua Ehi I bopo you Di ponte Di prumo Di figa Ti dico Su figa Su poli Su bruma I frecassi I frecassi I frecassi I frecassi I frecassi Facciamola Allora No, non ti sfido io Si fida al campione mondiale Manolo Ma no, no, si dà il campione, vai, dai mano, dai, dai, dai che cielo, no, no, colpiscelo, ma no, no, non si dà così, scusa, dov'è, Torre canta, vieni giottore, vieni, vieni, la 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 la, sediamo il campione, prego, uno schiaffetto, ma l'hai fatto male, ti ha fatto male, ti ha fatto male, cosa c'è, ti ha fatto male, dai che non hai niente, non hai niente, cosa c'è, ma la la, dai, mi devi, siamo sempre in paio, mamma, non hai niente, non hai niente, a tu regalura, a tu regalura, e lui, 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 ha cercato anche mamma, ha cercato la mamma di lui no, deve stare mamma di lui e la mamma mia, e la mamma è che tu la mamma, quindi picchialo, picchialo la mamma di me anche di te, picchialo no, ma l'ha picchiatto lui e lui che ne ha picchiatto lui è quello schiavo capito? no, non picchiavo, no picchiavo no picchiavo no picchiavo no picchiavo no picchiavo per, 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 per per, per per, per allora, per un attimo non è successo niente non è successo niente è arrivato lui, voleva dare uno schiaffo gli ha preso lo schiaffo e basta, non è successo niente signor Meta, sono giochi di mano giochi da villano non fatevi a fare i tuoi lasci, lasci, non picchiavo no allora, fermi fermi, portatelo via fermi 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 un attimo un attimo lasciate, lasci tranquillo tranquillo allora io volevo Serena avvicinati qui vieni qui volevo saluto allora vedete anche voi vieni ma c'è da sottolineare che Valentina la cucina di Isabella è invidiosa che Isabella fosse tutto il tempo qui sul palco con noi va bene poi la settimana prossima la chiamiamo Serena Massimo grazie a voi mi ricordo mi ricordo allora i figli osciti venite i personaggi i protagonisti tamurita allora allora ricordiamo vieni Sergio no piano piano adesso fermo ricordiamo l'appuntamento l'appuntamento parla qui Sergio ricordiamo l'appuntamento il 30 30 aprile 30 aprile piazza dei centomila Cagliari tutti i gruppi tra cui tamurita t'azienda strenturrosa l'arma mediterranea i dorian gray insomma tutti quelli che venite sarà una serata molto bella e poi a maggio uscirà il cd 28 maggio 28 maggio oh salutare Federico allora salutiamo Federico salutiamo Federico ringrazio tutti i bob tutti quelli che ecco vieni 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 lì ecco qua allora ricordiamo la serata domani SBI a 4 e al Vingo Imperial alle 22 la serata di cabaret è bellissima grazie grazie a tutti lanciate i cuori